Salve ragazzi, facciamo la ballata dell'eroe di Fabrizio Nelvetto. Era partito per farne la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Mi avevano dato le mostrine e le stelle, e il consiglio di prendere, cara la pelle, quando gli dissero di andare avanti troppo lontano. Si spizzi a cercare la verità, ora che è morto, Natalia si gloria, di una droga a la memoria. Grazie. 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 Grazie.